Come hai iniziato a fare i primi personaggi? O a scuola? A scuola invitavo qualche parente, mi soffermavo sui tic soprattutto, qualche condomino del palazzo. La famosa voce di Leo, di Mimmo, era Stefano, che abitava a... Bravo, questa voce mi piace! Mi piace! Mi piace! Abitava a primo piano di un contenere dei Vallati 2 e un giorno mamma dice andate a giocare da Stefano, un ragazzo che vuole giocare con voi, ma noi non ci andava, non lo conoscevamo. Un giorno questo Stefano ha suonato la porta, l'ho aperto io e lui mi si è presentato, io sono Stefano, vuoi venire a giocare a casa mia? E il pallone ce l'ho io, giocavo nel corridoio, qua mi tiri in porta. Allora siamo andati giù, abbiamo visto un gran presepio, mi piace il presepio? Mi piace? Lo faccio io con papà, guardate, guarda c'è pure la cometa che si muove. E c'era un giradischi fatto a 16 giri, lo mandava, con una bella luce di taglio che faceva vedere la cometa che passava così. E c'era anche l'acqua, era tutta una cosa meravigliosa, di cui famiglia romana di una volta. E si giocava in questo corridoio stretto praticamente a tiri in porta e ogni tiro praticamente era un vetro da una porta che si rompeva, sai quelle porte fatte a tanti quadratini, no? Che si rompeva e là arrivava il padre e poi diceva Stefano hai rompito i coglioni? E lui scusa ma adesso fammo l'ultimo tiro e basta! No ma era meraviglioso perché iniziai a fare la voce sia del papà che di Stefano e lui chiamava la sorella Paola, 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 il padre. Viscite Paola! Quindi era una famiglia che aveva questa voce così. Quindi quando mi sono presentato a casa ho rifatto la famiglia di Stefano, a casa ridevano tutti e avevano capito che aveva un buon orecchio. Ma poi le voci anche di quello che incontri al bar, sai il personaggio quello che parla così chiaramente è un personaggio che è un po' mio zio, un po' un professore di latino che frequentava a casa nostra e un po' un direttore di banca che lavorava vicino a casa nostra. Quando io incontrai e capii che questa voce era un DNA molto riconoscibile, queste persone molto precise, molte cose. E diceva al figlio, Michele cosa vuoi per l'ora di ricreazione? Cosa ti prende papà? Vuoi una bomba? No! Vuoi una ciambella? No! Vuoi un occhio di bue? No! Vuoi un ventaglio? No! Vuoi un tramezzino? No! Allora il ventaglio non lo vuoi, il tramezzino non lo vuoi, la ciambella non lo vuoi, sai che ti dicono? Ma va a morire ammazzato! E gli diceva un calcio... Allora mi faceva ridere questa compostezza di uno che addirittura con la radio, sai, la radio estraibile da una volta... Il borsello! Il borsello, bravo, borsello, radio, eccetera... Diceva, un cappuccino al vetro, grazie, che cosa ti prende? Uno che è tutto così preciso e poi va a morire ammazzato con un calcio nel sedere, perché il figlio è volgarissimo. Quindi ho sempre pensato a un dottor genile e mister I. Vediamo!